La festa di San Giovanni si celebra la prima domenica di luglio, ma anche l'11 gennaio a ricordo del terribile terremoto che nel 1693 distrusse la Sicilia sud-orientale. Vittoria registrò pochissimi morti e in quell'occasione la città attribuì a San Giovanni il merito di averla salvata dal terremoto e lo elesse suo patrono. Vi sono due leggende a tal proposito. La prima narra che la statua di San Giovanni fu trovata decapitata dopo il sisma e questo fu interpretato come un sacrificio di sostituzione tra il santo, la sua chiesa e la città che grazie al suo intervento fu risparmiata. Un'altra leggenda afferma invece che per sapere quale santo ringraziare i nomi furono messi in un urno e sorteggiati. Per tre volte di seguito sarebbe venuto fuori il nome di San Giovanni. In verità esiste una precisa disposizione delle autorità spagnole dell'epoca che nell'approssimarsi del primo anniversario del sisma stabilì che ciascuna città rendesse onore al suo santo protettore. Un'altra leggenda afferma di San Giovanni. La festa del patrono si festeggiava anticamente il 24 giugno ma ai primi del XX secolo fu spostata alla prima domenica di luglio per consentire ai mezzadri e ai contadini di partecipare non appena finita la raccolta del grano e delle fave. Un'altra leggenda afferma di San Giovanni. Un'altra leggenda afferma di San Giovanni. Un'altra leggenda afferma di San Giovanni. Grazie a tutti.